Mi alleno da quando ho 20 anni, ho iniziato con la palestra, poi mi sono interessato al bodyweight, ho visto diversi video e ora eccomi qua. Mi alleno 3-4 volte a settimana e cerco di sfruttare questo poco tempo che mi rimane per allenarmi al meglio, al meglio delle mie facoltità. Grazie a tutti. Faccio una vita molto sedentaria, ho deciso di prendere questa strada che è l'allenamento, per me adesso è uno stile di vita e non riuscirei più a starmi senza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.